Questo è il cammino che porta a casa di un musicista di tradizione. Lui è Antonio Forastiero, un suonatore di ciaramella e zampogna e anche costruttore da 40 anni di questi strumenti. Siamo nei pressi di Lauria e precisamente nel monte Sirino. Andiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! E' il primo strumento che ha costruito? Sì, sì! Me l'ho detto ieri sera che per bucare questo qua mi ho tagliato questo dito così. Aveva le cortelle, quelle cortelle senza sicura. Io bucavo, quello si è chiuso e mi ha tagliato le cose. E faccio, ma si arriva a fare una cosa di qui. E quel giorno ha deciso di fare le zampogne. E' il primo strumento che non si arriva a fare le cose. Grazie a tutti.